... Noi se ci troviamo in un fatto con una procedura di cessazione di attività e quindi di relativa messa in mobilità che di fatto licenzi a 148 opzioni. In realtà le San Giorgio italiane nati in Italia vengono prodotte dalla Brant Italia ma in Francia quindi hanno dato lavoro a un altro paese e a noi ci è stato levato. Francia o Turchia addirittura e di conseguenza noi ci siamo trovati prima senza marchio e adesso senza lavoro. Ora siamo arrivati a questo punto qua, degli sciacalli, però bisogna dire anche il perché certi personaggi possono essere chiamati imprenditori e invece fanno gli sciacalli delinquenti. Perché le istituzioni a noi ci hanno abbandonato. Gli imprenditori speculano su queste aziende, ti lasciano in mezzo a una strada solo perché il tortone ci fa fette e le fette poi ci sono per tutti. A livello sociale signora come si sente lei? Io mi sento che non ce la faccio a andare avanti. Io purtroppo ho 54 anni e quando avrò, anche se mi mettono in mobilità, 57 anni, ma io non so se poterlo. Non voglio andare a nessun coso, ho pagato di brutto, me è la mia famiglia. Galliani, ho 18 anni, vorrei fare un provino per il Milan. Mi sento in grado di giocare tutt'oggi come difensore centrale al posto di Maldini, perché più o meno l'età è quella che è sicuro di partecipare alla Coppa Campione e di portarla a Milano. Gli mandati alla lavatrice con un pioffone rosso. Io non lo faccio al mio, me è lo scopi. Che ce la fai? Fammi vedere il fisico, vai. Che ce la fai? Mi metto al cuore. Mi è contento di portare. Mi è contento di portare. Grazie a tutti.